La civiltà delle terramare, che per quasi cinque secoli aveva dominato la pianura padana durante l'età del bronzo, nel XII secolo a.C. collassò rapidamente, anche a causa dell'iper-sfruttamento dell'ambiente e dei cambiamenti climatici. Ne raccontiamo la storia con il professor Michele Cupidò, professore di protostoria europea e protostoria dell'urbanizzazione in Italia settentrionale all'Università di Padova e direttore dal 2010 dello scavo nella terra mare di Fondo Paviani, che rappresenta uno dei contesti più importanti per la comprensione delle relazioni tra gli abitanti della pianura padana sia con l'Europa centrale, sia con l'Egeo e il Mediterraneo orientale e anche delle dinamiche che portarono all'emergere dell'abitato protostorico di Frattesina. Buongiorno professore e benvenuto. Buongiorno, buongiorno dottoressa, buongiorno. Dunque, che cos'è la civiltà delle terra mare e come era strutturata dal punto di vista territoriale, economico e socio-politico? Allora, la civiltà delle terra mare è una, credo, illustre e sconosciuta per quanto riguarda diciamo le fasi più antiche della storia dell'Europa. In realtà fu una delle civiltà più importanti dell'Europa che, come ha detto lei, risale all'Età del Bronze. La civiltà delle terra mare si sviluppa nella pianura padana, in un territorio che è compreso tra la Lombardia orientale, il Veneto occidentale e l'Emilia. E, naturalmente, questo territorio comprende anche le fasce pedecollinarie e pedemontane, sia prealpine e alpine, sia appenniniche naturalmente, in un periodo compreso che dal grosso modo 1600 fino alla 1200 avanti Cristo. Quindi copre quelle che, con una brutta parola, diciamo, gli archeologi chiamano bronzo medio e bronzo recente. Com'era strutturata la civiltà delle terra mare? Intanto dobbiamo, penso, capire cosa vuol dire il termine terra mara. Non ha niente a che fare con mare, ha molto a che fare con terra, nel senso che il termine terra mara deriva da un termine ottocentesco, perché le terra mare furono scoperte per la prima volta alla metà circa dell'Ottocento, un momento straordinario di sviluppo della preistoria come scienza in Italia, deriva dalla distorsione del termine terra mara. Con il termine terra mara che cosa internevano i nostri padri archeologi e non solo ottocenteschi? Intendevano terreno, terra, fortemente fertilizzata. Perché fortemente fertilizzata, fortemente, diciamo, fertile? Perché derivante da depositi antropici, quindi ricchissimi di materiali organici, eccetera. Tanto che le terra mare furono scoperte in realtà appunto, diciamo, nella metà dell'Ottocento, o meglio, alla metà dell'Ottocento si capì che furono, che erano delle, diciamo, vestigia di abitati preistorici, perché venivano sfruttate come cave di terreno fertilizzante. Quindi, a un certo punto, gli archeologi preistorici dell'Ottocento, i nostri padri fondatori, decisero di utilizzare il termine, di tradurre il termine terra mara, con cui gli agronomi dell'Ottocento definivano le terre fertilizzanti cavate da questi contesti, con il termine terra mara. E, diciamo, nella prassi preistorica, dell'archeologia preistorica, a partire dall'Ottocento, il termine terra mara va a identificare che cosa? Molto semplicemente un insediamento, quindi un villaggio, di dimensioni molto variabili, da un ettaro, anche meno, fino alle grandi terra mare che raggiungono 20 ettari, che hanno tre caratteristiche fondamentali e costanti, in qualche modo costanti. La prima è quella di avere una forma subquadrangolare. La seconda è quella di avere un sistema di fortificazione composto da, di perimetrazione, meglio diciamolo, composto da un argine, cioè un terrapieno di terra armata, quindi un bastione, veramente una struttura difensiva molto rilevante, circondato da un fossato, un po' come nei castelli medievali, se vogliamo fare un confronto un po', diciamo, attemporale, circondato da un fossato collegato a un corso d'acqua. Il villaggio, nella sua parte interna, ovviamente ospitava case che per lo più erano palafitte, cioè case non direttamente a terra, ma sopraelevate su pali, ma non naturalmente imbagnato, ma su all'asciutto, e naturalmente ospitava anche infrastrutture, recinti per gli animali, granai, eccetera, tutto quello che serviva per la vita del villaggio. Quindi questo è il concetto fondamentale di terra mare. È chiaro che, a seconda delle differenze del territorio tra pianura, collina e area pedemontana, naturalmente non dappertutto c'erano le terra mare. In area collinare pedemontana c'erano insediamenti d'altura, talvolta contraddistinti da un sistema di fortificazione in pietrame, e quindi c'è una certa variabilità. Però la cultura materiale, quindi i prodotti della ceramica, i prodotti ceramici, i prodotti della metallurgia del bronze, eccetera, delle terra mare, sono molto omogenee in questo vastissimo territorio. E questa è la ragione per la quale noi parliamo di una civiltà. Come era strutturata dal punto di vista territoriale? Io devo semplificare in questo senso perché bisognerebbe fare un discorso che riguarda i 400 anni, che non sono pochi naturalmente, in cui la civiltà delle terra mare dominò la pianura padana. Diciamo che l'elemento fondamentale era che l'occupazione da parte della civiltà della terra mare, della pianura, fu un'occupazione progressiva ma estremamente razionale. Nel senso che nel tempo i gruppi terra mare, le comunità terra mare furono in grado di occupare sistematicamente tutta la pianura e non solo la pianura, anche tutte le fasce ecozionali, quindi dall'area pedemontana e pedemontana. E forse l'aspetto più importante, i due aspetti più importanti, meglio, sono i seguenti. Il primo riguarda la capacità di gestione dell'acqua. L'acqua naturalmente era, ed è anche per noi, quindi già ci rivolgiamo verso l'attuale, è una risorsa fondamentale. Una risorsa fondamentale non solo per la sopravvivenza ma soprattutto per quella che è la produzione primaria, quindi l'agricoltura e l'allevamento. La pianura padana è un'area ricchissima d'acqua e soprattutto quella a nord del Po. La zona a sud del Po, quindi l'Emilia, è diversa perché i fiumi dell'Emilia sono fiumi a carattere torrentizio, quindi molto legati a quelle che sono le oscillazioni climatiche, quelle che sono le oscillazioni dei regimi di pioggia meteorica. Però la civiltà delle terramare appunto ebbe la sua forza nella capacità di gestione e vorrei dire quasi di distorsione in senso antropico dell'acqua. Se nelle prime fasi il mondo terramaricolo fu in qualche modo legato alla presenza dell'acqua, nelle fasi più avanzate, quindi nel suo processo di sviluppo, fu capace di sviluppare una tecnologia idraulica straordinariamente raffinata con canalizzazioni, sistemi di irrigazione, tanto da poter portare l'acqua dalle zone basse, umide, alle zone dossive. E questo fu lo strumento attraverso il quale la civiltà delle terramare appunto fu capace di colonizzare l'intera pianura. Il secondo aspetto fondamentale è che nel tempo la civiltà delle terramare, da una fase nella quale fondamentalmente gli insediamenti occupavano in maniera omogenea il territorio, e non c'erano grosse differenze dimensionali e quindi neanche grosse differenze dal punto di vista del rango dei diversi insediamenti, passò progressivamente alla costruzione di sistemi territoriali complessi, sistemi territoriali fortemente gerarchizzati con dei siti centrali, dei siti diciamo chiave che gestivano da un punto, da una posizione dominante l'intero territorio. Sul piano economico chiaramente la civiltà delle terramare era una civiltà fondamentalmente agricola. La base fondamentale era quella dell'agricoltura estensiva, naturalmente agricoltura basata soprattutto sui cereali, orzo, farro, frumento eccetera, ma anche delle leguminose. E nel tempo anche la civiltà delle terramare fu capace di sviluppare la cultura di cereali non presenti in Europa, o poco presenti in Europa prima dell'età del bronzo, come il miglio ad esempio, che è un cereale estremamente facile da coltivare e molto efficace soprattutto nei territori dove c'è una forte antropizzazione e una forte, diciamo, presenza antropica. E naturalmente l'agricoltura, scusate, l'allevamento. L'allevamento declinato in modi diversi a seconda delle caratteristiche del territorio, zone che sulla base di dati archeozoologici erano più vocate all'allevamento dei bovini e zone che invece erano più vocate all'allevamento dei caprovini perché sappiamo che capre, pecore e bovini ovviamente hanno bisogno di territori e di risorse diverse. I suini invece erano una fonte di sostentamento di economia animale onnipresente. La civiltà delle terramare poi sviluppò anche una grandissima capacità dal punto di vista delle produzioni artigianali. Andiamo dalla metallurgia del bronzo, in cui la civiltà delle terramare fu una delle più avanzate di tutta l'Europa dell'età del bronzo, ma anche la lavorazione di altre materie prime come l'osso, il palco di cervo, fino a materie preziose come l'ambra proveniente dal Baltico o il vetro, i materiali vetrosi. Quindi diciamo che, concludendo questa breve sintesi, la civiltà delle terramare in 400 anni divenne uno dei fari di civiltà, chiamiamoli così, dell'Europa dell'età del bronzo. Un'Europa naturalmente barbarica, fra virgolette, molto diversa da quella che era la complessità, ma non per questo motivo inferiore dal punto di vista della complessità, molto diversa da quelli che erano ovviamente i sistemi statali della Grecia Micenea o del Vicino Oriente, con i quali comunque la civiltà delle terramare ebbe dei rapporti. Dopo questo periodo, quindi in cui, come abbiamo detto, la civiltà prosperò per centinaia di anni, arriviamo intorno al 1200 a.C., il momento in cui, nel giro di poche generazioni, questa civiltà crollò. Ecco, quali furono le ragioni di questo collasso? Sì, allora questo è un tema che ha ovviamente comportato il versamento di fiumi di inchiostro e riflessioni per un secolo e mezzo. Prima di affrontare questo tema, che possiamo affrontare oggi alla luce di una serie di dati molto importanti e molto recenti, dobbiamo però capire un pochino com'era l'assetto della civiltà delle terramare poco prima il momento del suo collasso. quindi quasi the day before, chiamiamolo così. Allora, tra la metà del XIV e gli inizi del XII secolo a.C., la civiltà delle terramare era arrivata al suo apice, a quella che con un termine greco e molto raffinato, chiameremo Acme. E rappresentava in questo momento davvero il punto di congiunzione, l'anello di congiunzione e, vorrei dire, quasi lo snodo attivo tra quello che era l'Europa centrale e l'Europa settentrionale e il mondo mediterraneo. Quindi, appunto, come ho detto, era una delle civiltà più avanzate del continente europeo. Perché era l'anello di congiunzione di questi due mondi apparentemente molto lontani, in realtà dialoganti? Perché le terramare si trovavano in quella che, dopo la grande pianura del Danubio, è la più grande pianura d'Europa, è la pianura padana. Non solo per una questione di dimensioni e di, diciamo, estensione del territorio planiziario, ma questo territorio è fondamentale anche perché è attraversato da due fiumi chiave. Due fiumi chiave per l'antichità e per l'oggi, che sono da un lato l'Adige e dall'altro il Po. L'Adige è il fiume che ancora oggi collega l'area sud padana, quindi il territorio, il versante meridionale delle Alpi, con l'area alpina, con il Trentino, che era forse la più importante bacino minerario di rame, naturalmente, di tutta l'Europa, e con l'area dell'Europa centro-settentrionale, da cui derivava, veniva, un'altra grande e importantissima materia prima per l'economia dell'età del bronzo, cioè l'Ambra. Il Po, naturalmente, è non solo il fiume che attraversa, in senso, ovest-est e tutto il nord Italia, ma quello che consente i collegamenti tra quella che è l'area padana, in senso proprio, e naturalmente intendiamo in questo senso soprattutto l'area dell'Eteramare, cioè la Lombardia orientale, il Veneto occidentale e l'Emilia, con l'Adriatico. Con l'Adriatico, questo straordinario canale, mare chiuso, anche se mare complesso, che mette in collegamento direttamente con il mare Geo e poi da lì con il Mediterraneo. Quindi, proprio in quella che chiamiamo fase finale dell'età del bronzo recente, diciamo tra la fine del XIII e gli inizi del XII secolo a.C., l'Eteramare è più in particolare una provincia, chiamiamola così, del mondo terramaricolo, che è quella della bassa pianura veronese, il cui centro fondamentale è proprio Fondopaviani, il sito di cui io scavo da ormai molti anni, appunto, ed è, diciamo, credo un vanto per l'Università di Padova di scavare questo contesto fondamentale, era il rapporto diretto con i navigatori Egei e Levantini. E questo naturalmente aprirebbe tutto un tema, anche questo molto attuale, delle relazioni tra indigeni e orientali, tra indigeni e stranieri, ma ci porterebbe troppo lontano naturalmente. Diciamo, quello che è il dato fondamentale è che i navigatori Egei e Levantini in un momento che corrisponde grosso modo al collasso della civiltà micenea, quindi al crollo dei palazzi micenei, quelli che ci sono raccontati nell'epica di Omero, arrivarono fino al delta del Po e, diciamo, risalendo il Po, si misero in contatto con le popolazioni, meglio, i gruppi teramaricole della pianura veronese, proprio per l'approvvigionamento, non tanto del metallo, materia prima fondamentale, ma i micenei avevano una fonte di metallo, meglio, di rame, naturalmente, molto ricca e molto efficace che era l'isola di Cipro, quindi non avevano molto bisogno di arrivare fino in Occidente per approvvigionarsi di questo metallo, quanto per l'approvvigionamento dell'ambra. Ambra, resina fossile, che troviamo soprattutto sulle coste del Mar Baltico e del mare del Nord, che è una sostanza, scusate, una materia prima fondamentalmente inutile, ma è una materia prima di grande lusso e anche oggi noi sappiamo che l'economia è mossa dall'economia del lusso, che magari è inutile dal punto di vista di quelle che sono le esigenze fondamentali, ma che muove l'economia. Ecco, in questo momento in cui appunto la civiltà delle terramare è veramente il medium tra l'Europa e il Mediterraneo, proprio per questa sua posizione di controllo a flusso della circolazione di queste materie prime fondamentali, e attenzione, non dimentichiamo mai che dal punto di vista archeologico noi vediamo materie prime visibili, cioè che si conservano sul piano archeologico, ma anche materie prime invisibili che non si conservano più, le derrate alimentari ad esempio, gli animali, i uomini, ok? Ecco, in questo momento la civiltà delle terramare aveva raggiunto il suo apice anche dal punto di vista della pressione insediativa, cioè tutta la pianura e tutte le fasce collinarie pedemontane o pede appenniniche, erano state completamente occupate. Questo è l'esito del successo e dell'efficacia del sistema delle terramare che si basa su quella gestione dell'acqua di cui abbiamo parlato prima. Non possiamo dire che la civiltà delle terramare fosse una civiltà idraulica, come le civiltà della Mesopotamia, però aveva una capacità di gestione delle acque davvero avanzatissima per quel tempo, ricordo siamo tra il 1600 e il 1200 avanti Cristo, e aveva occupato tutto il territorio e quindi progressivamente aveva, si era auto in qualche modo limitata le risorse. La deforestazione era arrivata ad un punto assolutamente limite, praticamente la pianura padana era grosso modo come la vediamo oggi noi, cioè priva ormai di quella copertura forestale che era cresciuta, che aveva coperto la pianura padana per secoli se non millenni. L'abbattimento della copertura forestale per far spazio ai campi, per far spazio ai pascoli, per tutte quelle che erano le esigenze della costruzione degli insediamenti, naturalmente aveva causato che cosa? Un degrado dei suoli, ruscellamento, problemi quindi di carattere geomorfologico. L'iper sfruttamento dei suoli dal punto di vista della produzione c'era da dare da mangiare a tanta gente, a un'enormità di gente, quindi questo aveva determinato uno impoverimento dei suoli. Questo ha innescato una sorta di effetto domino che ha impoverito progressivamente e reso praticamente non più sostenibile quello che era il sistema delle terramarie. A questo si è aggiunto anche un aspetto di carattere climatico, non dipendente naturalmente da quello che è l'impatto antropico, come invece accade oggi. Cioè intorno al 1200 a.C. osserviamo sulla base di dati archeologici di scavo e anche sulla base di dati di carattere archeobotanico geomorfologico, che la pianura padana, ma probabilmente si tratta di un aspetto che riguarda l'intero Europa, l'intero Mediterraneo, si ebbe una transizione, un'oscillazione di tipo climatico in senso arido, piuttosto rapida, che determinò che cosa? Non soltanto naturalmente un inaridimento del clima, ma l'abbassamento delle falde acquifere. Quindi questa sorta di tempesta perfetta, diciamo, un po' l'autodistruzione a cui inconsapevolmente i terramaricoli erano andati incontro arrivando al loro apice e questa oscillazione arida determinarono l'impossibilità di portare avanti appunto quello che era un sistema che aveva funzionato e che invece aveva portato appunto questa civiltà al suo sviluppo. Quindi fu da un lato una sorta di autodistruzione, dall'altro l'autodistruzione fu in qualche modo facilitata dall'aspetto climatico. C'è da dire, e chiudo, che tra l'area nord e l'area sud del Po, la risposta a questa crisi fu diversa. L'area sud del Po, l'Emilia, sostanzialmente fu completamente spopolata e abbiamo ormai evidenze chiarissime che gli ultimi gruppi terramaricoli si spostarono, quindi ci troviamo di fronte a delle piccole migrazioni, come quelle che accadono oggi, nei territori in cui è difficile vivere, naturalmente la gente scappa, si sposta, e ci fu probabilmente una diaspora verso l'Italia centro-meridionale. L'area nord del Po, fondamentalmente per quelle che sono le sue caratteristiche palidrografiche e idrografiche attuali, sto parlando della Lombardia orientale e soprattutto del Veneto occidentale, invece mise in campo dei fenomeni di resistenza, direi quasi di resilienza. Oggi si parla molto di resilienza. Perché? Perché il territorio era solcato da grandi fiumi, da fiumi di risorgiva che quindi non subivano gli effetti negativi o subivano meno gli effetti negativi della transizione climatica in senso arido e quindi il sistema delle terramare nord-padane non collasciò ma, diciamo, attraverso un fenomeno, un processo di iperselezione, iperconcentrazione del popolamento, diede vita a un nuovo sistema, un nuovo sistema che vide sul Po e nell'Adige i due assi fluviali fondamentali, però con pochi insediamenti. Uno dei quali, naturalmente, il più importante dei quali fu quello di Frattesina, Frattesina di Frattapolesine, che ereditò quello che era, diciamo, la vocazione internazionale di ganglio, di questo world system della Tardetta del Bronzo, che fu prima del sito di Fondo Paviani e dell'area delle Valle Grandi veronesi. Ma, ripeto, le terramare collassarono per una tempesta perfetta. Una auto-indotta, iper-sfruttamento del territorio, l'altra etero-indotta, quindi esogena e derivante da questo cambiamento climatico in senso arido. Quindi che cosa significa per noi rileggere oggi la storia di questa civiltà e del suo declino che, appunto, come abbiamo visto, è stato così legato anche a un eccessivo impatto antropico sugli ecosistemi naturali? Eh, questa è una cosa, è una domanda molto interessante che per noi archeologi preistorici che normalmente siamo sentiti come molto lontani dalla realtà, ci consente invece di poter mostrare a tutti che in realtà ogni fase della storia dell'uomo è strettamente interconnessa con le precedenti e con le successive. Allora, il primo aspetto che dobbiamo considerare è, quindi, se lei mi chiede, quale eredità possiamo dedurre dalle terramare? La prima è una eredità di tipo, vorrei dire, di storie del paesaggio. Le terramare costruirono il paesaggio padano, nel senso che fu il primo vero grande impatto antropico sul paesaggio della pianura padana. E questi insediamenti che poi, una volta abbandonati, si trasformarono in collinette artificiali, quello che in Oriente chiameremmo tel, quindi delle collinette artificiali, poi nelle fasi successive, nell'età del ferro, in epoca romana, soprattutto in epoca medievale, quando il sistema delle centuriazioni romane, che era il sistema di gestione delle acque del territorio, ancora una volta all'importanza dell'acqua, fu quasi una calamita, un punto di attrazione per l'insediamento. Quindi le terramare davvero costruirono il paesaggio padano fino all'Ottocento. Ci sono chiese dell'Ottocento che sono costruite al di sopra di insediamenti terramaricoli e quindi furono veramente quasi una sorta di base geomorfologica che l'antropizzazione delle fasi successive non poteva non tenere in considerazione. L'altro aspetto che è quasi intuitivo è che noi stiamo vivendo una situazione, a questo punto a livello globale però, non più a livello locale, stiamo vivendo una situazione molto simile a quella delle terramare. La nostra civiltà sta iper sfruttando il territorio e l'iper sfruttamento del territorio non è solo il caso delle terramare, pensiamo all'isola di Pasqua. Altro tempo, altro mondo, altro luogo. Però l'iper sfruttamento del territorio corrisponde a una sorta di suicidio di civiltà. Se non si rimane in equilibrio con il territorio e con quelle che sono le sue potenzialità produttive e quelle che sono le sue capacità di risorgenza, di ricostruzione, naturalmente ci torneremo un giorno con un territorio che non potrà mai più rispondere a quelle che sono le nostre esigenze. L'altro aspetto è naturalmente quello climatico. Come circa 3200 anni fa ci troviamo in questo momento in una fase di iper sfruttamento del territorio e di transizione climatica in senso arido. Transizione climatica in senso arido che in questo caso non è indotta solo da ragioni di tipo naturale, astronomico, ma che sono evidentemente indotte e accelerate da quello che è l'ipersfruttamento antropico del nostro mondo. Quindi Cicerone diceva storia magistra vite, la storia maestra di vita. In realtà se studiamo la storia dobbiamo dare torto a Cicerone. La storia non è mai stata maestra di vita perché abbiamo costantemente rifatto gli stessi errori. Però forse ripercorrere un pochino questa piccola storia, che in realtà è una grande storia perché è la storia della più antica Europa, almeno di una parte della più antica Europa delle Terramare, forse potrebbe darci qualche indicazione su quali siano i punti fondamentali dell'agenda ecologica e economica dei nostri non 100 anni che abbiamo davanti, ma forse dei nostri 10-20 anni che abbiamo davanti. Quindi diciamo che lo studio delle civiltà estinte, delle civiltà sepolte, se debitamente ascoltato potrebbe forse darci qualche informazione per mettere in campo delle importanti strumenti di salvaguardia di quella che è la nostra vita del nostro pianeta.